Ragazzi scusatemi se sono così completamente rovinato, ieri abbiamo finito la live sul canale Viola, sul canale Twitch ragazzi perché poi alla fine non sappiamo neanche se è vera questa storia qui, che non bisogna dire Twitch perché magari anche un personaggio si chiama Twitch come su Rainbow Six e cosa fai? Non lo nomini perché basta Allora, ragazzi, ho avuto la conferma, ho avuto la conferma, è tutto a posto con la partner quindi vuol dire che ho preso la partner direttamente con YouTube perché questa schermata? Perché sono le nuove grafiche del canale Twitch ma soprattutto ragazzi perché qui di fianco avete tutto avete il canale Twitch, il nome del canale Twitch, avete il nome di Instagram e avete il nome di YouTube seguitemi dappertutto ragazzi perché presto, dopo le vacanze ovviamente, ci saranno delle piccole novità quindi ragazzi, i progetti ci sono e c'è anche, come vi avevo fatto fare un sondaggio tempo fa il secondo canale in arrivo, che cos'è il secondo canale? Avventure, portata a mio modo, dove non solo giochiamo ridendo e scherzando ma anche cerchiamo di scoprire cosa stiamo giocando, chi sono i personaggi, qual è la storia di quel gioco scoprire ragazzi che è la cosa più bella e ci sarà un canale dedicato a quello quindi per la prima volta, la Miracle Nation, noi avremo un secondo canale completamente dedicato agli adventure quindi tutti quelli tra di voi che amano le avventure, che guardano le avventure sul mio canale avranno un canale dedicato invece chi ama lo sport può tranquillamente rimanere qui sul primo canale perché il primo canale sarà incentrato maggiormente su sport e cose random, prove, sponsor, unboxing, ok ma tutto quello che è dedicato alle avventure sarà spostato su un secondo canale che arriverà dopo le vacanze ragazzi sto già preparando tante cose mi stanno aiutando anche altri per preparare dei disegni per il canale quindi ragazzi tantissima roba ci siamo, la partner con YouTube diretta è arrivata non c'è più un network e ve lo posso confermare sono diretto con Google, sono diretto con YouTube ed è una cosa fighissima per me ragazzi seguitemi tutti i link qui scusatemi veramente se sono così ma ho detto cavoli la conferma, registro, vado, glielo dico, chi se ne frega veramente ragazzi ieri abbiamo finito Resident Evil Village alle due e mezza ho detto finché non lo finiamo non stacchiamo ragazzi dalla live sono devastato sono devastato veramente però sono molto felice di questa notizia spero che lo sarete anche voi che lo siate anche voi perché? perché la Miracle Nation continua la Miracle Nation cresce io voglio il quadretto qua dietro con la targa dei 100.000 iscritti non ce n'è di cabbi dobbiamo assolutamente spammare queste cose dobbiamo assolutamente spammare i progetti che avremo sui vari canali perché sul canale Adventure inizieremo con dei giochi da esplorare e da percepire, da capire, da scoprire, da indagare come la storia, come i personaggi possano creare emozioni in noi come possiamo immedesimarci nella storia ma soprattutto chi ragazzi ha sviluppato il gioco chi sono le persone che sviluppano il gioco e anche se non scopriamo chi sono andremo a capire che cosa hanno fatto cosa hanno disegnato cosa c'è dietro ah andiamo bella ma tutto il mondo intorno chi lo ha disegnato perché lo ha disegnato quanto è figo quello è scoprire ragazzi canale Adventure da questa parte invece avremo gli sportivi e la prossima stagione ragazzi voglio darvi tanto soprattutto anche con un ritorno importante su FIFA quindi avremo FIFA che è andata benissimo la carriera giocatore ragazzi abbiamo superato i 40 episodi della carriera giocatore eccoci qua eccoci qua adesso ad avere una possibilità già dal prossimo FIFA di fare sia carriera allenatore che carriera giocatore incredibile ragazzi proverò a farlo anche su NBA progetti progetti ma soprattutto voglio dirvi ce l'abbiamo fatta ragazzi e ce l'abbiamo fatta tutti insieme perché io ho fatto ho insistito col canale non mi sono fermato e ora ho le conferme avevo già una mezza conferma tempo fa ma prima volevo vedere anche poi come venivano gestite cose interne ho visto che sta andando tutto secondo i piani e quindi sono molto contento ragazzi dobbiamo arrivare a 100.000 dobbiamo far crescere la Miracle Nation io vi ringrazio davvero perché siete anche voi il canale non solo io che produco ma anche voi siete il canale perché siete voi quelli che si affezionano a me siete voi quelli che si affezionano al canale siete voi quelli che si affezionano alle serie e ai giocatori che creiamo alle avventure che faremo ragazzi io veramente spero davvero di vedere tantissimi commenti da parte vostra qui sotto non so ragazzi davvero qualsiasi cosa tanti like perché veramente siamo pronti perché dopo le vacanze si riparte con una forza in più una forza in più siamo tornati con la partner e il fatto di averla presa direttamente con YouTube mi rende davvero felice perché dovevo fare non per la difficoltà con il quale prenderla ma proprio per il fatto che dovevo fare una serie di passaggi incredibili dovevo cambiare un botto di cose eppure ragazzi è andata tutto a buon fine quindi volevo rassicurarvi era giusto così vi avevo detto che quando avrei avuto la sicurezza di questa cosa avrei avvisato ed eccomi qua appena ho potuto eccomi qua anche se sono tutto spettinato tutto rovinato che non ho dormito da Panbrother guardate i canali qui di fianco perché presto dopo le vacanze si aggiungerà il secondo canale della Miracle Nation per le avventure un abbraccio un bacione fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti daie bella sei bella